Ogni giorno che passa è un giorno in meno che ci separa dal rientro in campo del Milan. È lunga ancora, ma se ci guardiamo alle spalle un bel pezzo, una bella fetta di tempo ce la siamo lasciati dietro appunto. E adesso piano piano tornerà anche quel bel momento. Ben ritrovati qui su Milanello, la casa del Milan e dei milanisti su YouTube. Vi invito a iscrivervi se lo avete ancora fatto da questa parte. Se siete cuori rossoneri doc, se siete grandi tifosi del Milan, iscrivetevi, è gratuito. Attivate anche la campanella, è entrata a far parte della community più seguita ogni giorno da chi ha il Milan nel cuore. Commentate, lasciate un like. Voglio aprire questo video con una domanda, alla quale spero possiate rispondere in tanti. Vi chiedo di commentare semplicemente con un nome, una parola poi potete commentare il resto del video, il giocatore che in questo mondiale vi ha più colpito e che vorreste vedere con la maglia del Milan. Un nome, chiaramente non ditemi Mbappé, uno che può essere fattibile. Personalmente, ecco, l'ho seguito un po' distrattamente a targhe alterne. A oggi dico Kudus, giocatore del quale avevamo già parlato in una rubrica di calciomercato con Nicolò Schira e che mi piacerebbe vedere con la maglia del Milan. Vi faccio il suo nome, voglio vedere però voi che non mi fate. Sono molto, molto, molto curioso. Allora, avete visto in copertina tre gemelli diversi. Char de Quetelare, Lucas Paquetà, Yassin Adli. Non mi ricordo l'ordine della copertina ma potrebbe essere questo. Char de Quetelare, giocatore classe 2001, 21 anni. Lucas Paquetà, giocatore classe 97, 25 anni. Yassin Adli, giocatore classe 2000, 22 anni. Uno è stato da noi, gli altri due sono da noi. Partirei subito con una riflessione su Yassin Adli. Giocatore che ha fatto appena il 7% delle partite da titolare da quando al Milan. Appena l'8% dei minuti giocati in campionato. In totale solo 114 minuti. Quindi, come se fosse una partita con il minutaggio del campionato. L'unica da titolare contro il Verona, in una gara anche un po' complicata. Di fatto, sappiamo che il destino per lui è abbastanza segnato. Dovrebbe andare via in prestito a gennaio per farsi, non dico le ossa, ma per andare a giocare altrove. Per provare a trovare spazio con continuità e a mettersi in mossa per tornare al Milan pronto. Speriamo. Giocatore sul quale avevamo investito aspettative perché è una situazione abbastanza nuova. L'ha preso a gennaio e l'ha lasciato lì fino a giugno. Quindi comunque è una scelta che tu hai voluto, che hai studiato. Sei stato disposto a lasciarlo lì altri mesi pur di prenderlo ad una cifra comunque discreta. Ricordiamo che lui ha bilancio 8 milioni e mezzo di euro. Quindi non è l'acquisto più costoso dell'era Elliot, barra cardinale, prima Elliot. Ma in un periodo in cui il Milan non spende tanto, 8 milioni e mezzo di euro, non sono una cifra così. Purtroppo lui adesso non ha assolutamente feedback diversi da Mr. Pioli. Cioè che qualora restasse l'impiego svolterebbe, anzi. Per questo tutto lascia intendere che il giocatore andrà via. Sarà un nuovo aug di domanda? Adesso rispondiamo a questa domanda. Voglio passare però ad Ade Ketelare. Prima. Che ricordo avevamo vissuto il suo arrivo con attesa incredibile. Una trattativa mediatica lunghissima. Colpi di scena, incontri, tira e molla, non si fa, si fa, rilancio. Alla fine è arrivato ed eravamo la stragrande maggioranza contenti. Qualcuno diceva che era stato iperpagato. Io dicevo che sarebbe stato un acquisto top. Oggi, chiaramente, lui è riduce dal mondiale deludente, con una manciata di minuti in una sola partita. Non torna sicuramente galvanizzato, rigenerato. Lui in Serie A ha fatto 13 partite con un assist. In Champions League 5 partite. Quindi, nella colonna goal e assist c'è soltanto un 1 che è l'assist. Poi è stato sfortunato perché determinate passaggi non sono diventati goal, ma erano un assist straordinario. E un paio di goal che lui ha fatto sono stati annullati. Un po' per sfortuna, un po' per... non si è capito uno per cosa fosse stato annullato. In totale, circa 800 minuti. Quindi è come se lui ha giocato 9 partite. Non sono poche come Adli. Non sono neanche comunque un campione straordinario. Dechettelare, a oggi, sinceramente, lo sappiamo, grande delusione. Se qualcuno ha parlato anche dell'ipotesi di prestito a gennaio, cosa che escludiamo categoricamente perché il giocatore viene ritenuto importante dal Milan e tra gli obiettivi del 2023 c'è quello di rilanciare Chard e Chettelare. O meglio, di lanciarlo perché al Milan non è che si è perso. Non ha fatto vedere ancora quasi nulla, qualcosa, sì, numeri di quello che può fare. Però vedete, tra i tanti commenti, tanti sono stati poi stati facendo distruttivi, hanno etichettato il giocatore come un acquisto sbagliato, come un blocco, eccetera, eccetera. Non sappiamo se questi hanno ragione. Io ho un approccio diverso, nel senso che se uno al Milan è arrivato l'altro ieri, tendo a giustificare, magari, quando ha 21 anni, un rendimento non esattamente esaltante. Sono anche sincero, se Adli fosse stato pagato 35 milioni e De Chettelare 8 milioni e mezzo, probabilmente oggi il minutaggio di Adli sarebbe quello che oggi ha De Chettelare e viceversa. Cioè, ovviamente, per chi dice, ma perché facciamo partire Adli e De Chettelare, allora che cosa ha fatto? Perché aspettiamo De Chettelare? Chiaramente, quando investi 35 milioni su un giocatore, diventa un patrimonio importante, un asset a livello finanziario, economico, oltre che si spera sportivo, importante, e tu lo devi starlo a guardare. 8 milioni e mezzo di Adli non sono pochi, però sono un quarto rispetto a quello che oggi è il patrimonio di De Chettelare. Quindi, anche per questo, su De Chettelare si insiste, si va, si prova, si riprova. Su Adli, invece, un po' più a cuor leggero si possono fare scelte diverse. Però voglio dire una cosa e qui coinvolgo Luca Spachetà. Luca Spachetà oggi ha 25 anni, quindi è un profilo sicuramente più esperto rispetto a De Chettelare e rispetto anche ad Adli. È un giocatore che mi sembra sia stato autore di un buonissimo mondiale nel Brasile. Un giocatore che in Premier League quest'anno il West Ham ha fatto otto partite con due assist. In Conference quattro partite e un assist. L'anno scorso il Ligan con il Lione 35 partite, nove gole e sei assist, più due gole e un assist in Europa League. L'anno prima, sempre nel Lione, nove gole e cinque assist. Nel Milan, vado a vedere, nel Milan, prima stagione 13 presenze e un gol e un assist. Seconda stagione 24 presenze, un assist e basta. Terza stagione poi non l'ha completata. Vedete come un giocatore che nel Milan ha floppato per diversi motivi, devo dire. Perché lui con Gattuso inizia bene, poi si fa male con l'Udinese, poi finisce la gestione Giampaolo. A quel punto lui aveva staccato la spina e più a lì non è riuscito a rigenerarlo. Ma un giocatore che chiaramente ha floppato, perché anche lui non era stato pagato poco, anzi. Nel Milan il Ligan è diventato un signor giocatore e poi ha prodotto in Premier League per una sessantina di milioni di euro. Cifra clamorosa, no? No, non abbiamo incassato qualcosa sulla percentuale di quella che è stata la futura rivendita. Gioca nel Brasile. Insomma, devo dire che quello che non è riuscito a essere nel Milan, altrove è riuscito a esserlo. Perché? Perché le pressioni sono calate, perché è cresciuto anche lui, è maturato e ha trovato il suo equilibrio. E magari anche la giusta collocazione e il giusto ambiente. Tornando indietro, probabilmente, invece di cedere pacchetta, l'avremmo mandato in prestito. E qui mi collego ai due. Intanto per dire una cosa. Non commettiamo assolutamente l'errore di perdere il controllo e di uno e dell'altro, qualsiasi percorso parabola loro avranno. Oggi, domani, dopo domani. E' chiaro che su De Chetelar adesso siamo convinti, e il Milan è convinto, di puntarci. Su Adli, però, spero, credo, auspico, che non venga commesso lo stesso errore. Cioè, va bene, altrove, prestito, Serie A, ma non dovesse fare bene nei prossimi sei mesi, che ne so, la Cremonese si andrà lì. Quindi, non cediamolo, poi, per sei milioni di euro al prossimo anno. Il mio punto di vista, abbiamo visto qualcosa di buono in lui, se lo abbiamo preso in un gennaio, l'abbiamo aspettato, abbiamo speso comunque dei soldini. Abbiamo visto il potenziale. Se nel frattempo quest'anno il potenziale non lo esprime, aspettiamo e non perdiamo assolutamente il controllo. Altrimenti rischiamo di mangiarci le mani. Poi qualcuno a Paquetà, di Paquetà, direbbe che il Milan non giocherebbe, giocatore che, eccetera, eccetera. Però, io ero quello che diceva, non era adatto alla Serie A. Nel frattempo, bisogna dire che sta facendo un percorso importante rispetto al momento di down che lui ha vissuto al Milan. Su De Keterare può essere lo stesso. Io ho visto in entrambi, vedo in entrambi, dei limiti caratteriali. Il fatto che Paquetà in quel Milan non si fosse ambientato e in questo Milan De Keterare oggi non si è ambientato. Ci vuole pazienza. Con un po' più di pazienza magari oggi Paquetà sarebbe titolare nel Milan. Non lo so. Lui è rimasto due anni, un po' travagliati va detto. Non butterei a mare l'investimento suo di lì dopo sei mesi, neanche dopo un anno. E su De Keterare dico guardiamo tutti quello che ha fatto, quello che sta facendo Paquetà. Quindi prima di dire acquisto sbagliato, è un brocco, non vai da nessuna parte, abbiamo buttato soldi, spero che tutti si possa essere un po' più cauti e prudenti. Io con Paquetà non sono stato cauto e prudente, quindi faccio mia colpa. Dicevo che non era dato al calcio italiano, era uno un po' più leggerino, eccetera eccetera, brasiliano, senza schemi. Probabilmente in piccola parte avevo anche ragione, ma complessivamente nel giudizio sul giocatore ho sbagliato. Non sto commettendo più questo errore, non voglio commetterlo più con altri. Poi non abbiamo gli elementi per sapere se Ad Lì potrà fare un percorso importante al Milano o altrove o se diventerà un giocatore mediocre. Non abbiamo gli elementi ancora, se non le speranze, per sapere se De Keterare svolterà e diventerà un top. Dico calma, calma, perché su Paquetà, che può piacere o non piacere, io non stravedo comunque per Paquetà, ma va detto che se è stato pagato 60 milioni e si gioca nel Brasile avrà delle qualità, non commettiamo degli errori di questo tipo, di critica eccessiva e di investimenti che sono lasciati andare un po' così, senza crederci un po' di più. Quindi volevo capire poi voi che cosa ne pensate, leggerò i vostri commenti e dico che in qualche modo, ripeto, vedo molte analogie tra Paquetà e De Keterare, anche sul carattere, sull'emotività, sul fatto che tutti e due fossero un po' introversi. Poi con Paquetà è andata così, non mi strappo i capelli, però imparo la lezione e non voglio più commettere certi errori sugli altri. Su Adli sapete che io sono un suo estimatore della prima ora, dall'altra parte dico che se Pioli vive la quotidianità di Milanello, se inzaccano sul nostro canale YouTube, da vicino, tutti i giorni, appunto, meglio di noi avrà le sue motivazioni. Personalmente però aspetterei prima di perdere il controllo e quindi prima di dire faccio un'operazione all'Auga e resta qui, vado via, magari incasso qualcosina, vediamo, diamogli un po' più di fiducia, che non sono i prossimi sei mesi al Milan o al Trovinceria, ma è almeno un anno e mezzo. Poi tra un anno e mezzo valutiamo, vediamo che cosa sarà di Adli, che le qualità secondo me le ha, altrimenti le 3M, Maldini, Massara e Moncada non avrebbero investito su di lui. Ditemi che cosa ne pensate ragazzi, commentate numerosi, ditemi il giocatore che vorreste fattibile al Milan dopo aver visto questo mondiale da protagonista per lui, iscrivetevi, chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano, lasciate un bel like, ci vediamo presto, forzami oggi più che mai, domani ancora di più, e io sul caro di De Ketelare ci resto, anche su quello di Adli, che però investimento minore, chiaramente ci si punta un po' di meno, dispiace comunque. Commentate, un abbraccio.